Ciao a tutti. L'8 aprile scorso, riferendomi al criminale e bombardamento da parte israeliana dell'ambasciata iraniana a Damasco in Siria, ho detto questo. L'ambasciata e i consolati dovrebbero essere luoghi inviolabili. Chi li attacca vuole la guerra. Ricordatevi questo, se si dovesse allargare il conflitto in Medio Oriente è perché Israele l'ha provocato in ogni modo. È evidente, Israele oltre ai massacri di innocenti e la strage di bambini cerca l'allargamento della guerra. era Israele e oggi è uno stato terrorista. Tra l'altro ricordo, innanzitutto, quante condanne avete ascoltato di un bombardamento, ripeto, criminale di un'ambasciata. Bombardare un'ambasciata, uccidere tra l'altro anche dei generali che stavano all'interno dell'ambasciata, è un atto di guerra o no? Una dichiarazione di guerra o no? Io vi faccio una semplice domanda. Cosa avrebbero fatto gli Stati Uniti d'America se l'Iran avesse bombardato, non lo so, ad Amman, in Giordania, l'ambasciata statunitense, uccidendo due, oltretutto, due generali di Maritz? Cosa avrebbero fatto, secondo voi, gli americani? E onestamente, ci sarebbe stata o no una condanna da parte di tutto il blocco occidentale, la comunità internazionale, sì o no? Avrebbero reagito o no gli Stati Uniti d'America dopo un bombardamento della propria ambasciata da parte di una forza estera, di un paese estero, puttacaso l'Iran, con l'uccisione, ripeto, di due Maritz? Altra informazione, anche per capire i meccanismi, no? Questo legame che vi è tra Stati Uniti d'America e Israele, legame ovviamente non soltanto economico, ma geopolitico, esistenziale, in un certo senso. Gli israeliani hanno bombardato l'ambasciata dell'Iran grazie agli F-35, sono cacciabombardieri di quinta generazione prodotti dalla Loki de Martin, che è la prima fabbrica di armi del pianeta. Vi ricordo che luglio dell'anno scorso, quindi ben prima degli attacchi di Hamas del 7 ottobre, Israele ha ordinato una commessa da oltre 3 miliardi di dollari per nuovi 25 F-35. Pensate a quali interessi, stiamo parlando di interessi sconvolgenti, di commesse miliardarie, le guerre devono durare, devono continuare, al di là di vincerle, perdere, pareggiarle, l'essenziale è che durino, che siano guerre e durature. Comunque è avvenuto questo, no? Perché io ricordo quello che appunto dissi dopo il criminale, il bombardamento da parte di Israele dell'ambasciata dell'Iran, perché era evidente che una risposta iraniana ci sarebbe stata. Una risposta obiettivamente telefonata, scenografica. Leggo addirittura che gli iraniani avrebbero avvisato le autorità statunitense di questo attacco, fatto per lo più con droni, diciamo, lenti, che ci hanno messo ore e ore per arrivare appunto in Israele e sono stati neutralizzati, gran parte tra l'altro, prima ancora di volare sopra i cieli israeliani. Io dico sempre grazie a Dio perché a me fanno schifo tutte le vittime, ho letto che è morta una bambina israeliana. Una tragedia senza fine, senza fine. Dunque io condanno la risposta iraniana, perché io condanno qualsiasi tentativo di risoluzione dei conflitti attraverso la guerra, attraverso attacchi militari, sempre, perché credo nella Costituzione italiana. Dove stanno invece coloro che oggi si indignano, che dicono Israele ha diritto a difendersi? Dove stanno e dove stavano quando Israele attaccava e bombardava l'ambasciata dell'Iran? Dove stavano? Avete sentito una condanna? Pensate all'ipocrisia, a me fa schifo la guerra, mi fa ancora di più schifo l'ipocrisia, perché senza l'ipocrisia non ci sarebbe la guerra. Senza le menzogne, Assange diceva, se le guerre possono essere innescate dalle menzogne, possono essere fermate dalla verità. Israele, una parte, tra l'altro, senza altro il governo Netanyahu vuole l'allargamento del conflitto, vogliono, in certo senso, sfruttare questo momento di, non lo so, di impunità totale, perché l'Unione Europea è vergognosamente silente, zitta, tutti zitti, no? Ogni tanto qualche dichiarazione in Borrell, ma gli stanno consentendo una mese a Israele di fare il loro porco comodo. Ma dammi, in realtà, dammi. Io ho tallato tutto quello che dico, è documentato. Quando parlo di apartheid, praticato da Israele a danno del popolo palestinese, è perché mi sono letto rapporti su rapporti. Tra l'altro anche l'ultima relazione pubblicata Amnesty International, proprio sull'apartheid, che considero un crimine contro l'umanità. Non ho capito perché Amnesty International è una fonte autorevole quando parla, non lo so, delle detenzioni, delle torture nei carceri nordcoreane o russe, mentre invece viene del tutto ignorata quando parla di apartheid, commesso da Israele a danno dei palestinesi. Quando parlo di Gaza, prigione a cielo aperto, perché conosco i rapporti, perché leggo, perché mi interesso a queste questioni da tanti anni. Questo è il rapporto di Save the Children. Dopo 15 anni di blocco, 4 bambini su 5 soffrono di depressione e vivono tra angoscia e paura. Più della metà, il 55% dei bambini di Gaza, hanno pensato al suicidio. Rapporto Save the Children, 15 giugno 2022. 2022, l'anno tra l'altro, ovviamente prima degli ultimi mesi, più drammatico per i bambini palestinesi assassinati. Anche in Cisgiordania, quasi 40 nel territorio occupato. Quando io vi dico Israele colpisce volontariamente i giornalisti per evitare che i giornalisti facciano il loro mestiere, che mostrino al mondo la verità del tentativo di pulizia etnica da parte di Israele che è alla sbarra per genocidio, perché leggo i rapporti. Questo è il rapporto di Reporter Senza Frontiera sui primi giornalisti assassinati nel sud del Libano, volutamente colpiti, credo, da un elicottero a Pash israeliano prodotto dalla Boeing, un'altra fabbrica di armi americane, una delle principali al mondo. Lo vedete, il legame, la guerra continua, ordini di commesse. L'industria bellica nordamericana è contenta, sono contenta delle banche d'affari e fondi di investimento perché sono i principali investitori istituzionali appunto delle principali fabbriche di armi del pianeta. E questo, no? E questo è il sistema di interesse. In più, ovviamente, c'è la geopolitica e anche il fondamentalismo. Io stamattina in TV, eh, io non ho nessun timore. Ho detto che esiste il fondamentalismo arabo, musulmano, esiste il fondamentalismo ebraico, esistono i fanatici israeliani, persone che pensano di avere diritto divino sulle terre palestinesi. che è sconvolgente, anche perché poi Dio, la divinità, ce lo schiaffano, se lo buttano sempre in mezzo. Vi leggo le dichiarazioni rilasciate dopo, all'inizio di questa operazione di mattanza di bambini palestinesi, da parte di Netanyahu, un volgare assassino. Israele non sta combattendo solo la nostra guerra, ma una guerra per tutta l'umanità. Pensate alla propaganda. Ci sono momenti in cui una nazione si trova di fronte a due opzioni, esistere o cessare. Sì, perché la fake news è Israele, è in pericolo l'esistenza di Israele. Queste sono fake news, è propaganda. Propaganda che serve a farci credere, però si stanno difendendo, è in pericolo l'esistenza. Ma quale pericolo l'esistenza israeliana? Oggi tutti in spiaggia, a Tel Aviv, vivono una vita, certo, alle volte complicata, ma vogliamo paragonarla alla vita che da decenni vivono i palestinesi. Il popolo palestinese è in pericolo di vita, c'è l'esistenza stessa del popolo palestinese. Gli hanno tolto tutta la terra, avanzano le colonie in Cisgiordania, stanno cacciando i palestinesi da Gaza, che è come se avessero buttato tre bombe atomiche in cinque mesi su Gaza. È in pericolo l'esistenza del popolo palestinese, tant'è che è in giro per il mondo di Aspora, nei campi profughi in Siria, in Libano, in Giordania, cercano di fuggire da Gaza. Alcuni non fuggono perché sanno, se lasciamo Gaza facciamo la fine di coloro che scapparono dalla Palestina nel 47-48, la Nakba, la catastrofe, ma è in pericolo l'esistenza del popolo palestinese. Ma non viene detto, mentre invece, come dire, la propaganda è in pericolo l'esistenza di Israele come Stato, quindi ci dobbiamo difendere, quindi mandiamo le altre armi, stiamo zitti, non avanziamo pacchetti di sanzioni. Questa è la propaganda. Ma può essere in pericolo Israele, che è uno degli eserciti più armati al mondo, supportato dalle forze armate americane e non solo, pure i caccia britannici hanno colpito questi droni mandati dall'Iran ieri notte, alla bomba atomica, è un paese ricco, sostenuto anche dal punto di vista finanziario, da tanti cittadini, diciamo, che sostengono Israele in giro per il mondo. È in pericolo l'esistenza di Israele, è in pericolo l'esistenza del popolo palestinese, non si può dire dello Stato di Palestina perché di fatto non esiste, l'Italia neppure lo riconosce così come gran parte dei paesi europei, pensate. Israele sotto attacco, questa però deve essere la narrazione, perché? Uno, per stare sempre dalla parte dei potenti, due, dimenticare i crimini che fa Israele, ripeto, alla sbarra per genocidio, tre, farci dimenticare la mattanza di bambini palestinesi, già non se ne parla più. Ieri, mentre tutto l'amestrino parlava di Israele sotto attacco, Israele sotto attacco, ripeto, un attacco scenografico, scenografico, stradichiarato, e probabilmente, ripeto, secondo quello che ho letto, gli iraniani hanno avvisato gli statunitensi, ovviamente a loro volta hanno avvisato le autorità israeliane di questo attacco. Ecco, mentre tutto l'amestrino parlava di Israele sotto attacco, Israele attaccava ancora una volta Gaza, facendo strage anche dei bambini palestinesi, non solo, i coloni israeliani andavano in giro per la Sizzordania, nei territori dove non potrebbero stare per il diritto internazionale, a dare fuoco alle case dei palestinesi, alleato dei palestinesi, protetti dai soldati israeliani, delle scene che fanno i mafiosi. I mafiosi si comportano così, protetti dall'esercito israeliano, buttare benzina sulle auto, dare fuoco alle case, buttare cemento nei pozzi dei palestinesi, cacciare i palestinesi dalle case, dalle loro case, nelle loro terre. Veramente una roba incredibile. È avvenuto ieri, mentre tutto il mondo, nel mestrimo occidentale, parlava di Israele sotto attacco. avveniva questo. Ma ricapitoliamo, Israele pratica apartheid secondo le principali organizzazioni, diciamo non governative mondiali, tra cui Amnistia International. Israele occupa, perché guardate che è finita la colonizzazione su Gaza, anni fa, ma non l'occupazione, perché un territorio, secondo anche convenzioni internazionali, viene considerato occupato, se è sotto il controllo di una forza straniera o forza militare, Gaza da sempre sotto il controllo. Israele hanno pure distrutto l'aeroporto, anni fa di Gaza, non si può atterrare, decollare, non si può fare niente, non si poteva entrare senza il permesso israeliano, o di straforo, era tutto sotto il controllo israeliano, lo spazio aereo, i confini, il campo elettromagnetico. Israele ha occupato, anche prima di adesso che sono entrati, da sempre, sono anni e anni che occupa Gaza. Non ha più colonizzato Gaza, cioè sono andati via i coloni, ma l'ha occupata e come ha mantenuto l'occupazione. Oggi la Cisjordania è di fatto occupata dall'esercito israeliano e più colonizzata e questo addirittura contro una risoluzione votata, approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2016 con l'astensione, c'era l'ultimi mesi della presenza Obama, con l'astensione del Stato Unito America che hanno detto devono finire le colonie, Israele se ne frega, va avanti, protetta dal sistema mediale, dal sistema militare mondiale statunitense soprattutto e anche dalla pavidità delle classi dirigenti europee, tutti zitti di fronte a uno Stato che è diventato uno Stato terrorista. Israele appunto sta praticando un tentativo di genocidio. Ricordo a tutti, il genocidio non è un atto che si fa in 24 ore, è un processo, l'ha affermato prima che si realizzi definitivamente. Israele sta praticando pulizie etniche, Israele bombarda volontariamente gli ospedali per creare la crisi umanitaria. Borrella ha dichiarato Israele utilizzi alla fame come arma di guerra a Gaza, e l'altro rappresentante della politica estera dell'Unione Europea. Non uno global, lo dicono loro, alle volte parlano, tirano fuori il coraggio di parlare. Israele ha ucciso più di 15.000 bambini in poco più di 5 mesi a Gaza. Israele ha colpito volontariamente con voglia di organizzazioni umanitarie, ripeto, per creare l'emergenza umanitaria e per lanciare un messaggio non aiutate i palestinesi perché vi ammazziamo, vi facciamo la pelle anche a voi che portate cibo, acqua o medicinale a palestinesi perché i palestinesi sono bestie, sono animali, li dobbiamo trattare in questo modo. Sparano a qualsiasi cosa, anche agli animali, perché devono fare proprio, come dire, terra rasada, devono, tabula rasa, devono distruggere ogni cosa. Questo è l'obiettivo per occupare, non c'entra nera lotta al terrorismo, neanche il rilascio degli ostaggi. Vi faccio una domanda, quanti ostaggi sono stati liberati effettivamente da azioni realizzate dalle teste di cuoio israeliane. Ce l'hanno poi i reparti speciali. Quanti sono stati liberati? Pochissimi. La maggior parte degli ostaggi sono stati liberati attraverso il negoziato tra Israele e Hamas, mediato dal Catale. Ma Israele anche gli interessa questo, no? Non gli interessa, gli interessa proseguire la guerra, prolungarla. E questo anche interessa nordamericano. Biden si sta giocando le elezioni, dunque, dopo le figure barbine che stanno facendo in Ucraina, e infatti se ne parla sempre meno di Ucraina, fateci caso, se ne riparlerà qualora gli ucraini dovessero attaccare il ponte della Crimea perché magari vogliono fare queste azioni ma la guerra la stanno perdendo, servirebbe ora un negoziato, non si può permettere anche la deflagrazione mediorientale. Quindi dice andateci piano, ma mentre dice Israele andateci piano, in un certo senso forse ha ottenuto una non risposta alla risposta iraniana, alla provocazione, all'attacco, al primo attacco, il primo paese che è attaccato in questo conflitto degli israeliani, uno lo dimentica perché fa comodo dare retta alla narrazione amistrima, sono stati loro, ecco Biden tenta oggi, magari ci è riuscito a placare per qualche settimana Netanyahu, ma in realtà Biden conviene appunto che la guerra possa proseguire, no? Perché vendono più armi a Israele che acquista credo il 70% delle armi che acquista Israele in giro per il mondo vengono dagli Stati Uniti e America, il 70%. Questa è la logica, come si può spezzare non lo so, io mi impegno giorno e notte, scrivo in ogni modo, faccio dirette, pubblico articoli, faccio il massimo, prendo posizioni pubbliche in ogni modo, anche se mi danno dell'antisemita, del filo terrorista, queste scemenze qua. Tra l'altro, ve lo dicevo prima, la narrazione è la stessa, quando Bush dice che era guerra al terrore, bel risultato dopo l'attentato delle torri gemelle e disse Dio non è neutrale in questa battaglia, Dio è dalla nostra parte, perché citano, ci lo mettono in mezzo alla dinamità, pensate, il fanatismo, mondo libero contro autocrazia, bene contro male, Dio non è neutrale, sta dalla nostra parte, Dio. Guerra in Iraq, fateci caso, la guerra che ha costato 600.000 vittime tra morti dirette e indirette, creata e, diciamo, favorita da una menzogna, dalla più grande fake news, la presenza di armi e di istruzioni massi in Iraq prima della vigilia dell'intervento, dell'invasione statunitense appunto dell'Iraq, perché poi quando sono gli Stati Uniti ad invadere nessuno mai parla di guerra d'invasione, no? Peacekeeping, se sono i russi guerra d'invasione è un'invasione, invasi, invasori, aggrediti, aggressori, se sono gli americani nessuno lo dice, la guerra in Libia anche, la logica della lotta al terrorismo non c'entrava proprio niente la lotta al terrorismo, poi l'Ucraina, anche il Parlamento Europeo ha nominato, ha votato una risoluzione secondo la quale la Russia è uno Stato sponsor del terrorismo, ce lo mettono in mezzo, narrazione, per farci accettare le guerre, per farci dimenticare i crimini fatti da chi? Dai cosiddetti buoni, dall'unica democrazia mediorientale, altra cosa che a me proprio dà la testa, oltre alle fake news, Israele ha il diritto a difendersi, sta massacrando bambini, non si sta difendendo a fa, o Israele, rischio esistenziale per Israele, scemenze, fake news, ripeto, sta rischiando la sopravvivenza del popolo palestinese, l'altra è ma Israele è una democrazia, e beh, e allora una democrazia dovrebbe avere più doveri, non licenza di uccidere e il permesso di fare crimini contro l'umanità perché si vota, che ragionamento? Siccome si vota, quindi è una democrazia, li votano, mentre altrove no, quindi sono in diritto di fare mattanze, di bambini palestinesi, tanto che ce ne frega, sono musulmani, hanno la pelle di un colore diverso dalla nostra, stanno lì rinchiusi a Gaza, se i telegiornali non mostrano quell'immagine è come se non esistessero, perché prima 7 ottobre non esisteva più la questione palestinese, tutto finito, vivono in pace, segregati, sotto apartheid, in condizioni disumane nei campi profughi, che io, io non sono mai stato a Gaza, ma ho visitato i campi profughi palestinesi, in Siria e in Libano, più volte, più volte, quindi so, parlo dopo aver visto, dopo aver studiato, si è chiaro, perché ci sono stato fisicamente più volte, ho visto condizioni di vita, Andreotti disse, se fossi nato in un campo profughi palestinesi in Libano, avessi vissuto le 50 anni, nel vedere l'impossibilità di garantire un futuro ai miei figli, magari sarei diventato terrorista anch'io, lo disse Andreotti, comunque volevo darvi di nuovo degli elementi, soprattutto in questa fase durante la quale la narrazione Israele sotto attacco, mentre Israele sotto attacco, Israele appunto continua la mattanza dei palestinesi, ma poi ricordo che Israele sotto attacco, lo stesso paese negli ultimi sei mesi, ha attaccato l'ambasciata, bombardato l'ambasciata con armi americane iraniana a Damasco in Siria, bombardato il Libano, bombardato la Siria, praticato apartheid, arresti arbitrarie, stragi di palestinesi in Cisgiordania, dove teoricamente l'Ala militare a Mas neppure esiste, cacciato i palestinesi, distrutto case, hanno dato fuoco ad abilizione ai palestinesi nei territori occupati in Cisgiordania, hanno provocato in ogni modo anche durante il Ramadan a Gerusalemme i fedeli palestinesi, in ogni modo e hanno ucciso oltre 30.000 per lo più civili, soprattutto donne e bambini, oltre 15.000 ragazza colpendo ospedali, compagli umanitari, giornalisti, colpendo volontariamente giornalisti, ripeto volontariamente, perché l'obiettivo di Israele non è distruggere Hamas, ma distruggere la verità, perché la verità fa male a questo Stato che è diventato uno Stato terrorista. Vorro darvi questi elementi perché la narrazione sarà anche nei prossimi giorni, questa qui, Israele sotto attacco, anche per evitare che si, diciamo, per distrarci, distrarci proprio con altre narrazioni e per non farci concentrare ancora una volta sulla mattanza dei palestinesi. In un momento in cui Israele è sempre più indifendibile, alcuni anche difensori di Israele dicono, no, stanno esagerando, questa roba non va bene, ogni tanto pure Repubblica, il direttore Molinari, che è un super filo israeliano, che ogni tanto pubblica degli articoli un po' diversi perché sennò perdono tutti i lettori, no? È evidente, quindi ogni tanto devono buttarla un pezzettino di verità. In un momento in cui Israele è indifendibile, ecco la nuova narrazione, Israele sotto attacco. Non è vero, non è vero, Israele provoca e vuole l'allargamento della guerra, come ripeto, io lo dissi, l'8 aprile scorso, ambasciate e consolati dovrebbero essere luoghi inviolabili, chi li attacca vuole la guerra. Ricordatevi questo, se si dovesse allargare il conflitto in Medio Oriente è perché Israele l'ha provocato in ogni modo, l'ho detto l'8 aprile scorso. Grazie a tutti e condividete, cerchiamo di arrivare a più persone possibili, d'accordo? Ciao a tutti.